Anni di violenze, vessazioni, maltrattamenti fisici e psicologici. Vittima la moglie, spettatori inermi, tre figli minorenni. L'uomo, un macedone di 42 anni, è stato arrestato dai carabinieri che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato. Deve rispondere di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, estorsione e minaccia nei confronti della moglie e di uno dei figli. La donna, alla fine, ha trovato il coraggio di ribellarsi al marito padrone e si è presentata dai carabinieri di Montemurlo per denunciarlo. Le indagini hanno portato a galla una condizione di assoggettamento alla quale la vittima era sottoposta con aggressioni fisiche e verbali che non hanno risparmiato i bambini che spesso hanno assistito alle intemperanze e alle violenze del loro babbo. Una situazione che nel tempo è peggiorata perché il 42enne aveva privato di ogni minima libertà la moglie seguendola in tutti i suoi spostamenti e isolandola dal contesto familiare. Troppo anche per una donna che ha sempre subito. I carabinieri hanno raccolto le prove e inchiodato l'uomo alle proprie responsabilità. Per lui si sono subito aperte le porte del carcere.